Tiago Motta sempre più vicino alla panchina della Juventus, ma sullo sfondo ci sono Conte e Sarri. Continua a tenere banco il waltzer degli allenatori, in questi primi intensi giorni di calciomercato. Tra le big, mancano ancora le nomine ufficiali di Juventus e Milan, anche se tutto porta in direzione di Tiago Motta e Fonseca. Una scelta forte, quella dei bianconeri, per avviarsi su un nuovo ciclo possibilmente vincente, ma c'è chi ha delle perplessità sul suo avvento in panchina a Torino. Mentre invece convince molto di più la scelta del Napoli di puntare su Antonio Conte. Parole e musica di Antonio Cassano, che intervistato da Sportmediasset ha detto la sua sui possibili equilibri del nuovo campionato. Elogiando la mossa dei partenopei, che potrebbe pagare risultati importanti. Ho sempre detto che l'unico che poteva svoltare per il Napoli, nella passata stagione, era Conte, ha spiegato, adesso, con lui in panchina gli azzurri sono i favoriti per lo scudetto insieme all'Inter. Quanto alla Juventus, Cassano consiglia in questo modo Tiago Motta, spero ancora che non vada lì, potrebbe succedere lo stesso cinema visto con Sarri. Alla Juve interessa solo vincere, non vogliono giocare bene. Io apprezzo Tiago, spero possa fare bene, ma la vedo convicata.